Sportivi, per il ventiquattresimo anno consecutivo, Universo Dilettanti, tutto il calcio dilettantistico curato da Antonello Merenda, dalla serie D alla seconda categoria, in diretta dalla sede di Radio Studio 95 Melito TV e in contemporanea con Radio Azzurra, Latte e Miele, Radio Medua, Radio Eco Sud e in streaming su Radio Studio 95.it ogni sabato e domenica. Scarica l'app Radio Studio 95, ci puoi ascoltare ovunque sul tuo telefonino. Universo Dilettanti, con Antonello Merenda, il programma number one. Primo appuntamento sabato 8 settembre.